Nel mese di gennaio sono state oltre 10.400 le domande acquisite dall'Inps Abruzzo per l'accesso all'assegno di inclusione. Di queste circa 9.300 già corredate dal PAD, ossia il Patto di Attivazione Digitale. Quest'ultimo, spiega l'Istituto di Previdenza, è un passaggio obbligatorio per ottenere l'erogazione del sussidio. Con la sottoscrizione del PAD, infatti, i richiedenti mettono a disposizione tutte le informazioni necessarie per avviare un percorso di accompagnamento al lavoro o di inclusione sociale. Dal punto di vista pratico, l'assegno di inclusione viene accreditato su una carta ritirabile negli uffici dell'Inps. Per quello che riguarda i dati geografici sulla provenienza delle domande abruzzesi, la provincia da cui sono arrivate più domande all'Inps regionale per l'assegno di inclusione è Pescara 2.932. Seconda è Chieti, con 2.872 domande, a seguire l'Aquila 2.521 e infine Teramo con 2.167. Ed anche la graduatoria che riguarda la sottoscrizione dei patti di attivazione digitale, ricalca in toto questa scansione territoriale. Con Pescara davanti a tutti, 2.685 sottoscrizioni, seguita da Chieti con 2.534, poi l'Aquila con 2.221 e infine Teramo con 1.897 sottoscrizioni di patti di attivazione digitale. Grazie a tutti.